Benvenuti in un nuovo video! Oggi è una location un po' diversa ma ci stiamo un attimo riprendendo Dall'influenza ho detto trasferiamoci di qua perché di là fa troppo freddo Sono un po' bianca, a parte che abbiamo le luci non messe neanche bene quindi non ci fa di caso Ma l'importante è aprire la degusta box nel mese di novembre Pronti? È piccola ma è pesante Allora togliamo le sue brochure Allora questi me li hanno sfogliati sul sito Adesso invece c'è anche un'altra cosa al suo interno Hanno messo un po' l'immagine perché capi? Nella loro testa ormai sono arrivati già tutti Del marchio B-Stefani Con la Sun super sfogliato 24 di lievitazione naturale Latte fresco 100% Quindi è corretto lento Mi sono riscaldato Eccolo qua Non so se riuscivo a fare una 24 ore Oppure poi faremo un video assaggio Mi so Vai passi tu C'è tutto a vista quindi Roberto Gourmet Gressini Torinesi Rosa alla barbabietola Wow Come tutto questo pack neve Guarda un po' Siamo statiemetri Guarda chiuno Non lo so penso che si veda no? Ah vabbè Immancabili Al bronzo barilla Spaghetto Quindi sono gli spaghetti Bello Quello Questo pack rosso Bello questo sì sì Stephen avena merenda bevando al cacao per dare gusto ai tuoi spuntini senza zucchero aggiunto bevando al cacao ci sta ci sta poi della frittella oh guarda qua qua cola è un mix di caramelle gommose è quasi finita c'è un capito poi che cos'è ma questo te l'ha dovuto darci la scorsa delle gusamog e mi ha fatto il video per i snake questa qui è salsa dip mexicana no vabbè adoro questa dobbiamo provarla c'è anche un peschio guarda è proprio la faccia con questi baffi è quasi finita ci voleva piccola con erbe delle alpi svizzere originale menta sambuco piantaggine malbachillè al tè sabbia c'è l'indicato per questo periodo esatto mamma può fare i... ah no questi due vabbè sono uguali la drogheria cannella macinata e zenzero macinato ma sai che pensavo che fosse ah il gin ah il gin rispetto per il gin eccole ecco e se non mi sbaglio era lo stesso marchio era si pure secondo me che cosa è vita? che la dice qualche ricetta bruschetta coi funghi risotto alle miele e cannella no no che cos'è? Wittors il Boero mi sembra un po' il Ferrero con la ciliegia il Monsheri Monsheri della Ferrero della Ferrero sì è vero ci somiglia molto Boero eh sì perché c'è proprio la ciliegia con c'è tutto e poi alla fine ecco tu è cascato il mondo c'è una passata agromonte siciliana con ciliegino bella corposa la vedo bella creposa eccola qua finita una busta di patatine c'è l'ultimo potevano mettere le tortillas per i nachos cioè i nachos e anche i tortillas vai ok siamo sempre molto veloci infatti ma alla fine quanti prodotti ci sono dentro? pochi c'era pure il limone limoncello e crema whisky wow perché che non c'è uscito il limoncello? bello c'è pure lo sconto ok prodotto del mese sono i croissants di Stefani che costano 2,99 poi abbiamo i witter sarebbe le praline con la liquore a ciliegia 1,49 i grissili 1,59 le spezie della drogheria 0,99 centesimi al pezzo la salsa di pomodoro agromonte 1,79 ricola 2 euro il latte al cacao 2,99 la salsa dei belay questa qui salsa dip mexicana no qual'era? a noi mexicana mexicana? 3,49 perché poi c'è anche guacamole c'è questa mexicana gialapegno e cheddar poi barilla e spaghettoni 1,35 le fruttele 1,29 ok e tutto sommato carina mi piace di più quella del mese scorso wow sarebbe quella la tuc esatto io come qua non ci riusciremo a fare mai così per un video assaggio no no che fondamentalmente abbiamo solo 4 prodotti grissini magari quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao